C'è anche Pierluigi Boschi, padre dell'ex ministro Maria Elena, tra i 17 ex amministratori di Banche Truria, cui il pool di magistrati della procura di Arezzo, che si occupa del crack dell'istituto e di credito a Retino, ha inviato la notifica di chiusura delle indagini. Il filone di inchiesta è quello relativo ad alcune consulenze affilate dalla banca per circa 4 milioni di euro che vennero decise tra il giugno e l'ottobre 2014 in vista della fusione. Secondo l'accusa, questi incarichi sarebbero stati inutili uno spreco di denaro senza alcun motivo. Pierluigi Boschi era stato indagato anche nei filoni sul falso improspetto e sulla liquidazione all'ex direttore generale Luca Bronchi, ma la sua posizione in un caso era stata archiviata e nell'altro invece la procura ha chiesto l'archiviazione. Non risulta nemmeno tra gli ex consiglieri di amministrazione, ex revisori ed ex dirigenti di Banche Truria chiamati a rispondere per il crack della banca nel processo attualmente in corso. Oltre a Boschi, all'epoca vicepresidente della banca, tra gli indagati in questo filone di inchiesta ci sono l'ultimo presidente, Lorenzo Rosi, l'altro suo vice, Alfredo Berni, e gli ultimi due direttori generali, Luca Bronchi ed il suo successore. Per tutti quanti il reato ipotizzato è la banca rotta semplice. Adesso i destinatari della notifica avranno 20 giorni di tempo per presentare delle memorie scritte o chiedere di essere sentiti dai magistrati.